Salma Marisa, primo eccovo, signori voudri, buon acentimento Buongiorno a tutti. Secondo finali, il nuovo final, allora, due minuti dici sette sette Bona, Bona, Bona! Bona, Bona, Bona! Bona! Bona, Bona! Vieni si! Il primo è il primo è il primo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.